Il sottosegretario con delega i trasporti Umberto D'Annuntis, insieme a una delegazione dei sindaci, ha incontrato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini per affrontare il nodo del caro pedaggi sulle autostrade abruzzesi a 24 e a 25. Il ministro, ha riferito D'Annuntis, ha confermato la sterilizzazione delle tariffe fino al 31 dicembre 2021, nonché l'impegno a effettuare investimenti per l'adeguamento dell'autostrada e per la sicurezza antisismica con risorse pubbliche per un importo complessivo di 6 miliardi di euro, tre dei quali già disponibili. Tra le altre informazioni emerse nell'incontro ci sono la pubblicazione della gara per il controllo di 170 viadotti per 200 milioni di euro, la messa in sicurezza di 36 viadotti e interventi stradali nella galleria del Gran Sasso per complessivi 800 milioni di euro.